Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Da amante dei diver faccio veramente molta fatica a resistere al fascino di Doxa e in effetti anche nella mia collezione è un marchio molto ben rappresentato e anche qui sul canale ne ho già parlato varie volte. Da fan totale del mio 1200T ho sempre avuto la curiosità di provare quello che potrebbe esserne considerato un po' l'erede diretto, il 300T. Con l'uscita dei nuovi quadranti bianchi Wet Pearl ho deciso di colmare questa mia lacuna. Vi anticipo che l'esemplare che vedrete in questo video mi è stato prestato ed è stato già utilizzato altre volte per recensioni, articoli, servizi fotografici eccetera eccetera e quindi ha qualche segno più o meno superficiale soprattutto sulla parte lucida della ghiera. In ogni caso non perdiamo altro tempo e vediamo insieme com'è questo Doxa Sub 300T con quadrante Wet Pearl. Nella mia recensione del 300COSC vi avevo raccontato la storia delle origini di questi affascinanti diver. Dopo aver lanciato il suo primo modello dedicato alle immersioni nel 1963 Doxa iniziò a lavorare ad un nuovo progetto e quattro anni più tardi nel 1967 fu presentato il Sub 300. Il suo design così caratteristico e unico, unito alla ghiera in grado di dire per quanto tempo era possibile rimanere sott'acqua senza dover effettuare una decompressione risalita, ne decretarono il successo. Così Doxa migliorò ulteriormente il modello dando origine nel 1969 al Sub 300T con un vetro a filo con la ghiera, una cassa più massiccia e soprattutto con la valvola per il rilascio automatico del leglio che veniva utilizzata per la prima volta in assoluto in un orologio. Il Sub 300T protagonista di questo video è direttamente ispirato proprio al modello del 1969. Presenta molte somiglianze con il 1200T di qualche anno fa, di cui sono un fortunato e soddisfattissimo possessore e risulta essere molto fedele al modello vintage. Questo esemplare, come vi dicevo nell'introduzione, è già stato utilizzato per alcuni servizi fotografici e recensioni e mi è stato inviato in prestito all'interno di una confezione diversa rispetto al solito. Da quel che so non mi pare che il corredo sia stato cambiato. In ogni caso questo astuccio semirigido, più compatto rispetto a quanto visto con le altre referenze, lo considererei piuttosto una custodia da viaggio. Quest'anno DOX ha presentato i nuovi quadranti White Pearl, disponibili praticamente su tutti i modelli a catalogo, escluso il 200 SIGGRAPH. A parte il 300 Carbon White Pearl, che è anche un full lume, gli altri sono bianchi con sfere e indici riempiti di superluminova BGW9, quindi anch'essa perfettamente bianca. Come da consuetudine per la maggior parte dei diver di DOXA, anche sul 300T le scritte sono in posizione asimmetrica, con il logo in alto a sinistra e il nome del modello in basso a destra. La data a ore 3 è racchiusa da una cornice stampata. Anche gli indici sono stampati e grazie alla grafica nera sono in perfetto contrasto con il bianco del quadrante. Il nero lucido lo ritroviamo anche sulle sfere, che perciò spiccano tantissimo sul bianco. Il design è quello tipico per DOXA, con quella delle ore piccolina e sottile. Del resto, per un diver, la funzione più importante è proprio rappresentata dai minuti. Nell'insieme, questo è uno dei quadranti più leggibili in assoluto. Da amante dell'arancione, per me è un po' un peccato che non ci sia la sfera dei minuti in questo colore, ma in realtà credo che la scelta di DOXA sia stata corretta per differenziare maggiormente White Pearl e Sea Rambler. E a tal proposito, nelle immagini potete vedere il confronto con il mio 1200T Sea Rambler, con quadrante argentato e finitura Soleil. Al buio le prestazioni sono molto buone, proprio grazie alla BGW9 che, nonostante sia meno brillante di alte paste luminescenti, tende ad essere molto più duratura, consentendo la lettura dell'ora anche a distanza di tempo dall'esposizione ad una fonte di luce. Inoltre, personalmente, preferisco di gran lunga la luminescenza tendente al blu. Il vetro è uno zaffero piatto, a filo con la ghiera, con trattamento antiriflesso sul lato interno. Questo è piuttosto efficace, anche grazie al colore chiaro del quadrante. Da questo punto di vista mi piace molto di più del vetro con doppia bombatura, sia interna che esterna, presente sul mio 1200T. La ghiera è monobloc in acciaio, con una doppia finitura, lucida sull'anello più esterno e satinata su quello più interno. Gli indici riportano la profondità in piedi e i minuti, sono incisi nello spessore e riempiti di smalto nero. Il bello dei diver di Doxa è anche un po' il loro tallone d'Achille. La finitura a specchio della ghiera è molto difficile da preservare, ma in realtà quando inizi ad assumere un aspetto un po' più vissuto ci guadagna ancora di più in fascino. Il grip è molto efficace e riprende alla perfezione il design a denti di sega introdotto proprio con il modello vintage. La rotazione è fluida ed è abbastanza morbida da azionare, senza però rischiare di essere spostata inadvertitamente e i 120 scatti sono precisi e senza giochi. La cassa è incredibilmente caratteristica per Doxa, con le sue forme subito riconoscibili. La parte superiore ha una bella satinatura circolare, mentre i fianchi sono lucidi. Dalla vista laterale si nota lo spessore della carriera decisamente superiore a quanto visto sul 300 COSC, ma è in linea con quello del 1200T. Ricordatevi che abbiamo a che fare con un diver professionale in grado di resistere fino a 1200 metri di profondità e, se teniamo conto di questo dato, lo spessore ha quasi del miracoloso. Sul fianco sinistro è presente la valvola automatica per il rilascio del leglio, mentre la corona è in posizione diametralmente opposta ed è per metà protetta dalla carriera. E a vite e in un diver come questo non potrebbe essere altrimenti. La filettatura è molto precisa, sia in apertura che in serraggio. Nonostante le corone a ore 4 siano ancora più comode, qui sul Doxa non sporge così tanto e non dà fastidio al dorso della mano. Interessante notare come sul White Pearl il logo di Jenny sia nero, mentre invece è giallo sul Diving Star, turchese sull'Aquamarine e arancione su tutte le altre varianti. Insisto però a dire che preferirei ritrovare il logo in rilievo e non quello smaltato. Il fondello, naturalmente a vite, ha al centro la tipica decorazione della barca a vela. Tra le varie indicazioni incise manca stranamente quella relativa all'impermeabilità. Da un po' di tempo a questa parte Doxa non dichiara più se all'interno dei 300T ci siano ETA o Sellita. Io ve l'ho già detto molte altre volte, in base alla mia esperienza diretta non vedo alcuna differenza a parità di grado tra un 2824 e un SW200. Da quello che so comunque attualmente nei 300T vengono utilizzati proprio gli SW201. E se teniamo conto di storia, caratteristiche e marchio, trovo che sia una scelta corretta e adeguata al prezzo di vendita. In più renderà tutte le operazioni di manutenzione alla portata di qualunque orologiaio. La frequenza è di 28.800 alternanze all'ora, la riserva di carica è di circa 38 ore, è possibile la ricarica manuale ed è presente il fermo macchina. Questo esemplare ha fatto registrare uno scarto medio di più 5 secondi al giorno durante circa 6 giorni di normale utilizzo. Come da tradizione per Doxa, anche sul 300T c'è un magnifico bracciale a chicchi di riso. Rispetto a quello montato sul mio 1200T, qui le prime maglie che si attaccano ai terminali sono più larghe, in modo analogo a quanto visto nella recensione del 300Cosk, per raccordarsi meglio al design della cassa. Il bracciale è molto flessibile e questa è una caratteristica tipica del design a chicchi di riso. I perni sono a vite e c'è una chiusura solida e di buon livello, con tanto di estensione per la muta che funziona anche come micro regolazione rapida integrata, visto che non ci sono i tipici fori nella scatoletta. In alternativa ci sono i cinturini in gomma FKM sagomati su misura per la cassa del 300T e con l'aggiunta del quadrante White Pearl è ora disponibile anche la colorazione bianca. Questi cinturini sono di altissima qualità, solidi ma flessibili al tempo stesso. Purtroppo però è necessario tagliare gli spezzoni su misura e quindi l'operazione è irreversibile. Anche con i cinturini in gomma è abbinata una clasp molto simile a quella presente sul bracciale, inclusa l'estensione. Trovare un diver in grado di resistere fino a 1200 metri di profondità più comodo di questo 300T o del mio 1200T è veramente molto difficile. Con il bracciale installato si fa sentire un pochino il peso, mentre con un cinturino in gomma, oltre che essere comodo, diventa anche piuttosto leggero. Questo è un dettaglio trascurabile per chi ha il polso un po' più grande, ma in realtà anch'io con il mio polso da 16 cm non ho avuto alcun problema ad utilizzare questo 300T. Il diametro è di 42 mm, ma la ghiera si ferma a 38,5 mm. La distanza da ansa ad ansa è di 44,3 mm, lo spessore è di 13,7 mm e il peso con il bracciale regolato per me è di 177 grammi. I 300 COSC rappresentano la scelta perfetta per gli innamorati dei diver, oltre che per i più esigenti alla ricerca delle migliori prestazioni possibili per il movimento. Insomma, per i maniaci. Ma per chi desidera portarsi a casa l'erede diretto del modello nato nel 1967 e poi aggiornato nel 69, la scelta più equilibrata ricade senza dubbio sul 300T. I quadranti White Pearl sono una valida alternativa per chi vuole avere qualcosa di sfizioso e particolare senza però esagerare con i colori. I 300T vengono proposti ad un prezzo di listino di 1890€, a mio parere assolutamente adeguato a dei diver professionali con valvola per leglio, imprenabilità fino a 1200 metri e una storia così importante alle loro spalle. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo mio contenuto vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e noi ci vediamo presto con un altro video.